Ehi, attento! Una postura scorretta ai tei movimenti sbagliati possono scatenare un'infiammazione e quindi il mal di schiena. Devi piegarti sulle ginocchia per aiutare la schiena. Ottimo lavoro! Bene, parliamo della tua postura ora. Pensa alla tua povera schiena. Ecco ciò che stai facendo di sbagliato. Ecco invece ciò che dovresti fare. La postura è sempre importante, anche quando ti rilassi. Grazie!